I Vestini e gli altri popoli dell'Abruzzo per Romano. E questo è il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Genti d'Abruzzo per commemorare il padre del museo proprio delle Genti d'Abruzzo a Pescara, Claudio Leno de Pompeisi. Il convegno si svolgerà domani, 24 marzo, all'Auditorium Petruzzi a Pescara, dove si parlerà ovviamente del popolo dei Vestini, dei loro insediamenti e delle attività economiche, sociali e culturali dell'epoca. Vogliamo fare il punto un po' sulle ultime ricerche, sugli scavi effettuati dalla sovrintendenza archeologica sulle popolazioni del medio adriatico e quindi sugli italici e una seconda sessione, un secondo scopo, una seconda missione che è quella divulgativa e presentiamo un quaderno didattico realizzato proprio sull'età dei metalli e le popolazioni italiche in Abruzzo, realizzato dai responsabili del nostro centro didattico sperimentale e che verrà presentato durante il convegno domani e ci sarà l'opportunità di presentare anche le attività didattiche e laboratori che facciamo qui al museo. Ecco, come mai puntare, fare un convegno su questo tema, i Vestini e la popolazione dell'Abruzzo pre-romano? Cosa vi ha spinto a organizzare questo convegno? Perché vogliamo far conoscere di più questa parte così fondamentale delle nostre radici, delle nostre origini culturali. Il popolo è un po' dimenticato. Assolutamente, diciamo, sotto... non conosciuto adeguatamente come noi vorremmo. Non tutti sanno che la prima capitale d'Italia è stata Corfinio, denominata dalla Lega degli Italici nel 91 a.C. appunto Italia. E la prima moneta con il nome Italia è stata coniata proprio dagli italici quando giurarono fedeltà reciproca contro Roma per ottenere in fondo gli stessi diritti di cittadinanza che erano riservati appunto ai cittadini romani. E quindi queste popolazioni di pastori agricoltori, di indole guerriera che si mettono insieme per difendersi in qualche modo dall'espansionismo romano. Questo momento storico così importante è il nostro passato.